ciao a tutti eccoci al consueto appuntamento delle bollette elettriche per quanto riguarda il 2020 e in effetti facciamo il gennaio è arrivata la bolletta di gennaio la confrontiamo con quella dell'anno scorso è il primo mese dell'anno e le potete vedere qua sul sul mio computer perché ho installato un decodificatore e adesso riesco a farvele vedere così in maniera tale che le possiamo confrontare insieme sia quelle del 2019 che quella del 2020 e praticamente ho speso nel 2019 90,55 euro con un consumo di fatturato in kilowatt di 563 kilowatt ora mentre guardiamo da questa parte qua questo gennaio che è stato abbastanza freddo e poi l'olio riscaldato bene perché sono stato al caldo in casa riscaldando solo con le stufette elettriche quindi non ho ancora la pompa di calore e abbiamo lo stesso consumo più o meno 94,25 euro spesi e 587 kilowatt ora quindi invece che 563 dell'anno scorso 587 ne ho consumati un po di più però ho pagato un po di più ci sono sempre le stesse cose ho sempre il bonus sociale di 10 euro quindi magari se voi non ce l'avete togliete e aggiungete 10 euro in più comunque andreste a 104 euro se avete un consumo come me calcolate come sempre che io in questo momento sono a casa tutto il giorno quindi non lavorando non è che magari a basso spengo il riscaldamento e perché vado a casa quindi lo tengo sempre caldo a 18 20 gradi durante durante l'inverno ecco questo qua è per farvi vedere provare anche il nuovo programma che ho e farvi vedere appunto le prime bollette del 2020 probabilmente andrò a spendere sempre sulle 600 euro all'anno se vado avanti così perché le cifre sono uguali adesso vediamo come andrà febbraio febbraio vabbè è andato era molto caldo quindi mancano ancora pochi giorni vediamo come andranno naturalmente se si avvicinano degli anni sempre più caldi il consumo sarà sempre minore e poi vediamo se riuscirò a prendere la pompa di calore bene io vi lascio vi saluto tantissimo mi ringrazio vi do appuntamento alla diretta del martedì che ho iniziato a fare sta avendo molto successo e molta partecipazione da parte vostra sto cercando di di provare un po di pratica perché non è non è facile fare le dirette anche quelle connessioni non c'è mai una buona connessione però con un po di pratica magari riuscirò a farle sempre meglio vi ringrazio e vi auguro una buona giornata vi ricordo di iscrivervi al canale youtube migliora orbis la pagina migliora orbis di facebook di cliccare sulla campanellina per le notifiche che vi verranno date tutte le volte che pubblicherò un video ciao a tutti